E insomma avete visto anche quante ripercussioni ci sono in questa situazione di guerra economicamente, il turismo, il costo dei prodotti, insomma è chiaro che oggi in questo mondo globalizzato, come diceva uno, se una farfalla sbatte le ali in Chedia abbiamo una ripercussione fino a noi. Qui è un po' esagerato, ma ci sono delle situazioni che dipendono proprio da questi problemi a livello internazionale. Vi abbiamo fatto vedere ieri l'immagine di un grosso pesce, in questo caso si tratta di un tonno, che praticamente è un tonno morto, che galleggiava nelle acque davanti alla provincia di Ragusa. Lo vedete qua, queste sono immagini che avrà fatto qualche pescatore. Il tonno è morto, perché succedono queste cose? E oggi è arrivata la notizia che la Capitaneria di Porto ha iniziato in questi giorni tutta una serie di controlli per andare a vedere chi sono i furbi della pesca. Ecco, guardate questa immagine. In pratica sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza tonnellate di pesce non tracciato, quindi non sappiamo da dove viene, e quindi probabilmente anche pescato in modo illegale. Lo stesso vale per esempio per i ricci. I ricci sono in via di estinzione, perché c'è una raccolta esagerata in tutti i periodi dell'anno, lo fanno di notte e poi vanno a vendersi i ricci. Voi sapete che una boccettina d'anta si vende in pescheria di uova di riccio per fare gli spaghetti, costa 15 euro, ma quanti ricci ci vogliono per fare una boccettina del genere? Quindi fa bene la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza a fare questi controlli, perché a noi serve la sicurezza. E quindi perché quel tonno era morto ed era buttato in acqua? Cioè come non si può buttare dalla casa? Perché probabilmente chi aveva pescato il tonno non aveva la licenza, come abbiamo detto ieri, non aveva la licenza, e quindi la licenza praticamente se venivano fermati da una motopedetta o quando arrivavano a terra con un tonno senza la licenza si beccavano una multa. Allora è meglio lasciarlo stare, peccato il tonno non è servito neanche a fare un po' di cipollata, che sarebbe stato, mi dispiace per il tonno, ma la catena alimentare è questa qua. Quindi questa è la notizia del mare. La licenza invece ce l'ha all'aeroporto di Trapani. Cioè Trapani è l'aeroporto degli Sperti, invece in Autri siamo l'aeroporto Re Babbi. Vabbè è chiaro, siamo la provincia Babba e noi siamo l'aeroporto Re Babbi. Invece a Trapani sono l'aeroporto Re Sperti. Perché? Perché a Trapani sono Sperti. Uno faceva il gesto così, uno si usava questo gesto che era un gesto malandrino. Che cosa è accaduto? Allora purtroppo sappiamo che l'aeroporto di Trapani è di proprietà della regione siciliana. E quindi è così contentune ranne la regione siciliana di aver investito soldi nell'aeroporto di Trapani e il presidente della regione è contentune ranne e dice avete visto? Io mi ci sono impegnato, abbiamo messo questi 4-5 milioni di euro e siamo riusciti a parlare con la Rai Nair. Ho telefonato a McDonald, quello della Rai Nair, ci disse fatto bene, portagli aeri qua che ne altri tiriamo i soldi. Ma perché questo accade a Trapani e non accade a Comiso? La risposta è facilissima. Trapani è di proprietà della regione e invece Comiso è di proprietà della SAC di Cataria. Che vuol dire, o meglio, non è di proprietà della SAC, è di proprietà del sindaco di Comiso. Ma il sindaco di Comiso che fa parte di questa provincia e quindi noi siamo la provincia Babba. Ma Babba non vuol dire stupido, quindi non bisogna offendersi, ma vuol dire buoni. Noi siamo troppo buoni. Ci hanno chi a Cataria e ci hanno detto ma che ce lo pigliamo noi? Un tozzo di pane, non ti preoccupate. E noi che siamo Babbi, nel senso di buoni, hanno detto bravi. Ma allora non era meglio che andavamo alla regione e ci regalavamo l'aeroporto? E ci dicevamo, senti regione, hai già Trapani, ti regalavamo Rausa, ti regalavamo Comiso. Con due, tre milioni te l'avete perché Catania se l'è comprato. Ha speso prima i soldi, ma quei soldi che ha speso li ha recuperati. Perché pensate, vi faccio un conto facile facile. Se Catania, se Comiso avesse avuto in questi otto anni, nove anni, diciamo negli ultimi otto anni, no? Se avesse avuto un milione di passeggeri, no? Quindi vuol dire dieci milioni di passeggeri, solo con la tassa di imbarco, che è qualche sette, otto euro, nove, perché è di più, però ci sono costi vari, solo la parte che va proprio all'aeroporto, che sono sei, sette euro, questo precisamente non lo so, ma pensate, sono sette milioni l'anno, moltiplicato sette anni, otto anni, su cinquanta, sessanta milioni. Allora, già Catania ha recuperato abbondantemente i soldi che ha speso. Come? Non facendo funzionare Catania, quindi non avendo nessuna concorrenza, e quei soldi che avrebbe perso, perché se Comiso fosse stato di una compagnia reale, vera, che non interessava farlo morire, ma che invece voleva farlo crescere, già Catania avrebbe perso un milione di passeggeri l'anno. E questo milione di passeggeri, anche a metà calcolato, fruttava due o tre milioni di euro l'anno, moltiplicati per otto anni, già i venti milioni che ha speso li ha recuperati. Quindi basta. A questo punto c'è da dire che l'errore l'abbiamo fatto, perché dovevamo andare a regalargli l'aeroporto al Presidente della Regione, che oggi sarebbe lì a dire quello che sta dicendo. Che cosa meravigliosa abbiamo fatto? Come siamo bravi. Sentiamo.